Allora, siamo in una panchina che è sonora perché è dedicata a una gezzista Moika? Zetterlund, una gezzista svedese, gli hanno intitolato questo parco e se ti metti a sedere su questa panchina di legno parte la musica di questa Zetterland e ora fa il giro fa vedere che c'è seduto. Ma come fa? Si, giralo qui su. Fa lo te? Io non lo so fare. La chi è? Io. Ma no. Eh? Grazie.